Una domenica di sole all'insegna del divertimento, del pattinaggio, come vi siete organizzati? Noi ci siamo organizzati venendo tutte le domeniche e coinvolgendo tutte le persone che amano questo sport, perché solitamente è uno sport che noi pratichiamo in solitario nella città di Lecce, però in questo momento siamo riusciti a coinvolgere diverse persone anche all'estendo un gruppo Facebook che sta riscorsendo successo comunque. La bellezza di pattinare su tutto questo sole qual è? Il pattinare ti dà un grosso senso di libertà, un grande senso di libertà, certamente non è uno sport facile, però comunque basta un po' di equilibrio, un po' di buona volontà, come si cade ci si può rialzare, non ci sono grossi problemi. Questa è la bellezza dei pattini, la libertà, stanno sempre a toccare i piedi, si muovi con loro, devi essere con loro, se no non ci devi. Per entrare in contatto con voi che cosa bisogna fare? Beh, da questo punto di vista siamo discretamente organizzati, perché abbiamo un sito che è www.lecceimpattini.org, dove troverete contatti, mail, numeri di telefono e quant'altro, a parte un po' di informazioni così generiche. Il gruppo Facebook, come diceva prima Angelo, quindi anche quello, Lecce Impattini, semplicemente noi abbiamo degli appuntamenti che sono appuntamenti fissi e diciamo anche così abbastanza casuali. Abbiamo deciso, tra virgolette, che questa è la sede di Lecce Impattini, ovviamente non è realmente la nostra perché è uno spazio pubblico, ma poi c'è ogni domenica qua. Praticamente sì, ogni volta che c'è il bel tempo basta che non piove e qualcuno è venuto anche con la piozza comunque, senza farsi troppi problemi. Per cui partecipate e venite qui a piazza Maria Teresa Calcutta, pattini e vi divertimento. Ci sono i ragazzi, vi aspettami. Ciao!